Premiazione in comune questa mattina per i giovani campioni di pallannuoto under 20 del circolo Canottieri Napoli. L'assessore alle politiche giovanili Alessandra Clemente ha accolto in sala giunta la squadra giallorossa che a giugno scorso ha conquistato lo scudetto battendo a ostia i napoletani del circolo nautico Posillipo. Era un dovere della città essere qui oggi per riconoscere i sacrifici fatti ed incoraggiare questi giovanissimi atleti nel percorso collettivo di sviluppo e di riscatto della città di Napoli. Il volto più bello della nostra città è proprio quello dei ragazzi e quindi siamo qui a ringraziarli, a incoraggiarli e a non lasciare solo chi in questa città crede nello sport e nella forza scatenante che c'è. Oltre al consigliere al nuoto e pallannuoto Paolo Trapanese la formazione è stata accompagnata dall'allenatore Enzo Massa e dal presidente Edoardo Sabatino. Significa che c'è un modello innanzitutto, un modello che parte da lontano e che ovviamente ha radici profonde nel passato ma soprattutto nel presente perché significa che i dirigenti, gli istruttori e gli stessi ragazzi hanno creato un corpo unico e così facendo un corpo unico si riescono ad ottenere degli ottimi risultati.